Il primo poveriggio Il 28enne ferito nel frontale è avvenuto a pochi chilometri di distanza e costato la vita a due persone. Il ragazzo rischia l'accusa di omicidio stradale. Tanta gente ha abbracciato Cristian Fontana nel suo ultimo viaggio al campo sportivo di Cerce Maggiore. Monsignor Bregantini ha celebrato le esequie del 21enne che ha perso la vita sul lavoro giovedì scorso. È un'ingiustizia, ha detto il Vescovo. Servono condizioni di lavoro più dignitose. Ci sono due nuovi casi di coronavirus. Molise è un campo bassano che dopo aver mostrato dei sintomi è stato segnalato dal medico di base e un boianese tornato dalla Basilicata. Nelle ultime ore l'ASREM ha processato 331 tamponi. Con i fondi nazionali e regionali a disposizione riusciremo a soddisfare le esigenze degli istituti e degli enti locali. Lo ha assicurato il governatore Toma che ha poi fatto appello agli studenti. Misurazione della febbre prima di uscire e responsabilità sugli autobus e in classe. E intanto il presidente della regione ha scritto ai sindaci perché rendano note le loro necessità in vista dell'apertura delle scuole. La lettera è stata inviata anche ai presidenti delle province e all'Unimol. Per garantire sicurezza il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, ha già avviato la sanificazione di tutti gli istituti. Infine lo sport, il calcio, inizia a prendere forma l'Olimpia agnonese. In panchina arriva Stefano Senigagliesi, ex San Giustese, a breve anche il DS. Il Campobasso ufficializza il talentuoso Corda e continua a lavorare per Sforzini. Basket Emilia Bove analizza la preparazione della Magnolia. Ben trovati, nuova edizione del Tg di Teleregione. Come avete sentito dai titoli c'è la cronaca in apertura. Ci troviamo a raccontarvi l'ennesima tragedia della strada che è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 17 tra Guardiareggia e Campochiaro. Un autotrasportatore finito col suo mezzo al di là del guardrail in una scarpata. Per lui non c'è stato nulla da fare. Aveva 42 anni, era della provincia di Salerno. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine, la macchina dei soccorsi che subito si è messa in moto e il sostituto procuratore di Campobasso Giuliano Schioppi ha subito disposto l'autopsia. Sentiamo Cristina Nero. Ancora un incidente, questa volta lungo la statale 17. Una persona è deceduta. Sono tre le persone morte sulle strade molisane nel giro di tre giorni. Giuseppe Coppola, 42 anni, della provincia di Salerno, era la guida del camion lungo la statale 17 tra Guardiareggia e Campochiaro al chilometro 214 in località Tiro a Volo. Viaggiava in direzione Boiano quando è finito fuoristrada, precipitando nella scarpata con il mezzo pesante. Il camion ha preso fuoco e immediato l'allarme sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, tre mezzi dei vigili del fuoco, le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Boiano. Poco dopo la notizia che il 42enne era rimasto incastrato nell'abitacolo che prendeva fuoco e che per lui non c'era purtroppo nulla da fare. Sul posto è giunto personalmente il sostituto procuratore della Repubblica Giuliano Schioppi, al lavoro anche gli operai della Multiservice per mettere in sicurezza la strada e consentire ai vigili del fuoco di procedere alla rimozione della salma dall'abitacolo. Operazione che è durata circa tre ore a causa delle fiamme e degli alberi che hanno reso difficile l'accesso dei mezzi sul versante sottostante la scarpata. Il sostituto procuratore e il capitano della compagnia dei carabinieri Edgat Pica sono scesi personalmente dove era precipitato il tir per definire la ricostruzione del sinistro che sarà corredata dall'esame autoptico che il magistrato ha disposto non appena terminati gli accertamenti. Al vaglio dei carabinieri c'è l'ipotesi che il 42enne potrebbe aver avuto un malore o un colpo di sonno soltanto due giorni fa lungo la statale 87 sull'altro versante che conduce a Sepina lo scontro fra due auto e la morte di altrettante persone. Tanta gente che ha rispettato le norme anti-covid. Oggi pomeriggio ha voluto salutare Cristian Fontana, il 21enne di Cerce Maggiore che ha perso la vita sul lavoro. Giovedì scorso le esequie sono state celebrate nel campo sportivo del paese da Monsignor Bregantini che durante la sua omelia ha fatto appello a tutti a che ci siano maggiori condizioni di sicurezza su tutti i luoghi di lavoro. Sentiamo. Nel campo sportivo di Cerce Maggiore tante persone, centinaia, tutte distanziate tra loro nel rigoroso rispetto delle normative anti-covid. Sono arrivate anche dai paesi vicini per salutare Cristian, un giovane i cui sogni sono stati spezzati a soli 21 anni in un pomeriggio estivo di lavoro. Si stava impegnando come sempre Cristian Fontana quel giovedì a Pietracupa quando è stato colpito improvvisamente da un gancio meccanico. Il sindaco Mascia ha dichiarato il lutto cittadino e ha pensato allo stadio per consentire al giovane di ricevere l'abbraccio grande che la sua comunità gli ha tributato. Resterai sempre con noi, cavaliere, la scritta su un manifesto che gli hanno dedicato gli amici ricordando la sua passione per l'equitazione. La cerimonia, sobria, silenziosa, toccante, è stata celebrata dall'arcivescovo di Campobasso Boiano, Giancarlo Brigantini, che ha ringraziato tutti per la compostezza e ribadito quanto bisogno ci sia di sicurezza sul lavoro. È una vera e grande ingiustizia, ha detto. È terribile morire mentre cerchiamo di guadagnarci il pane quotidiano, come preghiamo fiduciosi nel Padre Nostro. Crediamo e speriamo tutti che questa morte non sia in vano, ma serva a creare condizioni di lavoro ancora più dignitose. Il Vescovo poi ha fatto appello a tutti a coltivare la speranza. Chiediamo al Signore la forza nella speranza, la consolazione per la famiglia, il coraggio per tutto il popolo laborioso di Cerce Maggiore, la prospettiva per il futuro. Ci aiuterà Gesù che dà vita nuova a un giovane di Naim in Palestina. Con due parole di coraggio, non piangete, riprendete i vostri passi. E gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'altro incidente, quello avvenuto un paio di giorni fa sulla Statella 87, in territorio di Sepino, che è costato la vita a due persone. Il 28enne, che è grave in ospedale al Cardarelli, figlio di una delle vittime, rischia l'accusa di omicidio stradale. Sepino e Campolattaro sono due comunità in lutto, affrante dal dolore per la perdita di due concittadini, Cristino e Mariangela. Non ci sarà l'autopsia, elemento che lascia ipotilizzare che la causa del decesso sia chiara. Dunque, altrettanto chiara, è quella che delinea l'incidente accaduto lunedì sera alle 19 lungo la Statale 87 a Pulosannitica, all'altezza del comune di Sepino. È stata ritenuta sufficiente l'ispezione svolta dal medico legale, subito dopo il sinistro, che ha parlato di morte causata da diversi traumi dovuti proprio allo sconto fra le due macchine. La moglie di Cristino, il 72enne, imprenditore edile di Sepino, è ancora ricoverata all'ospedale Cardarelli. La donna, che viaggiava con lui sulla Hyundai, dovrà essere sottoposta ad un'operazione chirurgica alla gamba a causa di una frattura di tibia e perone. Cosimo, invece, il 28enne, alla guida della BMW, figlio di Mariangela, l'altra persona vittima dello schianto, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Come atto dovuto il suo nome, ora rischia l'imputazione per omicidio colposo. Anche se ci sono ancora aspetti dell'incidente da chiarire, e su questo sono al lavoro le forze di polizia, che parlano della BMW in viaggio verso Campobasso e che improvvisamente avrebbe invaso l'altra corsia di marcia. Prima ha urtato contro un pick-up che viaggiava in direzione Benevento, poi avrebbe concluso la sua corsa contro il guardrail della corsia opposta e in quel momento stava sopraggiungendo la Hyundai su cui viaggiavano Cristino e la moglie. Lo scontro è stato inevitabile. Perché la BMW ha invaso la corsia opposta, lo stanno verificando gli investigatori. Un malore o una distrazione? Un problema agli pneumatici che forse hanno perso aderenza a causa della pioggia abbattente in quel momento? Ecco, sono questi alcuni dei nodi da sciogliere sui quali si lavora tuttora. Ancora nessuna traccia quando sono trascorse più di 48 ore dalla sua scomparsa della 82enne di Torella del Sannio, per cui sono scattate immediatamente le ricerche. Ascoltiamo allora il vicepresidente del soccorso alpino Molise, Ettore Masceri, che fa proprio il punto sugli interventi compiuti in queste ore. Le ricerche stanno continuando interrottamente con la bonifica del territorio mediante ricerca di superficie. Ieri è intervenuto anche un elicottero della Polizia di Stato di Pescara, allertato da noi con cui abbiamo una convenzione a livello nazionale per la ricognizione aerea. Questo elicottero, tra l'altro, è dotato anche di una telecamera alta definizione e a infrarossi per l'ispezione del territorio sorvolato, ma le ricerche hanno dato l'esito negativo. Adesso stiamo procedendo con i vigili a fuoco all'ispezione e alla bonifica dei pozzi che sono qui in zona. E con le altre squadre, sia del soccorso alpino, ma anche utilizzando i volontari della protezione civile, l'ispezione del territorio circostante e allargando il raggio di azione e di indagine. In base alle segnalazioni che ci sono state date, anche dall'autorità giudiziaria che è competente per la zona, che sta comunque supportando costantemente i carabinieri della locale stazione di Torella del Sagno, in base a queste segnalazioni o indicazioni, operiamo un'attività di ricerca di tipo tecnico sul territorio circostante. Per adesso ancora non abbiamo avuto dei riscontri significativi. Ed ora l'emergenza coronavirus. Ci sono due nuovi casi in Molise. Un campo bassano che aveva iniziato a mostrare dei sintomi e che è stato segnalato dal medico curante all'ASREM e un cittadino di Boiano rientrato dalla Basilicata. Processati in queste ore 331 tamponi. Giornata nera sul fronte coronavirus in Italia. Sono stati scoperti 1.326 nuovi casi dai circa 103.000 tamponi processati. In Molise i contagi rilevati nelle ultime ore dai 331 test analizzati dal laboratorio di microbiologia del Cardarelli sono due. Si tratta di un cittadino di Campobasso segnalato dal medico curante. Aveva iniziato a mostrare sintomi di anosmia. Non riusciva più a percepire gli odori. Da qui il dottore ha allertato subito l'ASREM. L'altra persona contagiata è di Boiano ed era appena rientrata dalla Basilicata. Salgono quindi a 75 gli attualmente positivi in Molise. Tre sono ancora ricoverati nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Aumentano ancora le persone in quarantena. 135. Il virus è in 14 comuni della regione col numero più alto a Campobasso. 42 casi. Poi Isernia e Termoli, ognuno con 6. 5 contagi invece a Campomarino. 4 a Sant'Elia e Pianisi. 2 a Campolieto, Ferrazzano e Forli del Sannio. 1 a Boiano, Ripa Limosani, Filignano, Macchiagodena, Montaquila e Rocchetta al Volturno. Con i fondi nazionali e regionali a disposizione riusciremo a soddisfare le esigenze degli istituti scolastici e anche dei comuni. Questo lo ha assicurato il governatore del Molise Donato Toma oggi in un incontro con i giornalisti a cui ha preso parte anche l'assessore regionale ai trasporti. Quintino Pallante è arrivato poi un appello agli studenti a misurare la febbre e ad avere un atteggiamento responsabile sui mezzi pubblici e anche in classe. Sentiamo Rita Iacobucci. Lo che ha le linee guida sul trasporto con l'autorizzazione a riempire gli autobus all'80% e a ricorrere al noleggio per soddisfare l'intero fabbisogno ha chiuso la corsa contro il tempo di governo e regioni per approntare il via libera alla scuola in presenza. In Molise l'avvio delle elezioni sarà il 14 settembre, ha assicurato il presidente Donato Toma. Diversamente da altre regioni più popolose con molti più edifici da adeguare alle misure anticontagio, noi siamo pronti. La pausa del 20 e 21 settembre per le elezioni, aggiunto, sarà utile a fare il punto sulla prima settimana di scuola e ripartire dopo la sanificazione degli edifici. Da Roma, per i servizi aggiuntivi di autobus, arriveranno alle regioni subito 200 milioni in totale. A consuntivo della verifica sulla bigliettazione, il riparto di altri 100 milioni. Le ditte hanno tempo fino alla giornata di oggi per comunicare alla regione di quante corse in più hanno bisogno. È stata risolutiva intanto la norma che è stata accettata, proposta da regioni, con un'utilizzazione dell'80%. Entro oggi avremo l'esatto numero delle corse da duplicare, per le cosiddette corse bis. Abbiamo chiesto ai concessionari qual è la loro disponibilità. Potremo usufruire dei bus NCC, quindi io credo che per il 14, da questo punto di vista, dovremo essere pronti. Stiamo anche lavorando all'ipotesi di utilizzazione della biglietteria online, per la quale sono aperte due opzioni, o quella di un incentivo all'utilizzo o di disincentivo a chi vorrà utilizzare ancora il sistema tradizionale della biglietteria non online. Per quanto riguarda le esigenze di adeguamento degli spazi, ma non solo, la regione ha concluso la ricognizione avviata con comuni, province, scuole paritarie e Unimol. A disposizione sono 8 milioni di euro, cui ora si aggiungono i 25 previsti da un'ordinanza in fase di definizione del capo dipartimento della protezione civile Borrelli. Toma quindi aspetta di capire bene cosa finanzia per il Molise lo stanziamento complessivo nazionale per integrare poi con quello regionale. I comuni e gli enti che abbiamo interpellato le province hanno risposto e ci hanno manifestato le loro esigenze. Vi devo dire onestamente che sono tutte esigenze a cui possiamo tranquillamente venire incontro. Però ho dovuto rallentare perché acquisita la notizia che 25 milioni di euro le avrebbe messi il governo, che 150 milioni di euro le avrebbe stanziate in finanziare il governo. E a quel punto lì voglio non andare in sovrapposizione, ma in complementarietà. Così l'intervento tra governativo e regionale sarà il più ampio possibile. Infine l'appello agli studenti su di loro e sulle famiglie ha riposto una grande aspettativa e una grande responsabilità. La primissima cosa è misurarsi la temperatura a casa. Se la temperatura non supera i 37,5 potranno uscire di casa. La seconda cosa è capire bene come comportarsi quando si prende il pullman. Quindi mascherina obbligatoria. Non muoversi sul pullman, non fare sciocchezze nel cambiare posto e nello scherzare con gli amici perché può diventare, se c'è un contagio, può diventare anche fatale. Quando si sale e quando si scende, non formare assembramenti. Pure gli assembramenti sono deleteri. Cercare per quanto possibile, anzi cercare sempre di mantenere la distanza di almeno un metro. In classe potranno abbassare la mascherina se sono seduti al banco e se c'è quindi tra i banchi il distanziamento di almeno un metro. Il distanziamento dalla cattedra deve essere di almeno due metri. Quando dovranno andare al bagno o alla lavagna, metteranno la mascherina. Quando avranno finito quest'operazione e si sederanno, toglieranno la mascherina. Io sono sicuro che i nostri ragazzi non ci faranno preoccupare di tanto. Il presidente della regione ha scritto a tutti i sindaci, ai presidenti delle due province, anche al rettore dell'Unimol, per chiedere cosa serva alla riapertura delle aule. Unimol intanto programma la ripartenza in presenza per il 23 settembre e domattina c'è l'importante appuntamento con i test di medicina nell'edificio della Facoltà di Economia a partire dalle 8 per 400 aspiranti dottori. Offrire il più ampio supporto anche finanziario per il riavvio delle attività didattiche in sicurezza, il governatore Donato Toma ha inviato una lettera ai sindaci e ai presidenti delle province e al rettore dell'Unimol, allo scopo di procedere ad una ricognizione dei fabbisogni. Si va dal trasporto, acquisto o noleggio di bus, acquisizione e servizi aggiuntivi, ai piccoli interventi per adeguare gli spazi negli edifici scolastici, dai canoni di locazione per locali da adibire ad attività didattica alla strumentazione per la didattica a distanza. E sono 400 le aspiranti matricole di medicina che giovedì sosterranno la prova per l'accesso alla facoltà nel secondo edificio polifunzionale dell'Unimol. Causa Covid, come per i concorsi, i test di ingresso si svolgono nella regione di residenza, quindi in Molise e tutti i molisani che provano ad entrare nelle varie facoltà di medicina, indipendentemente dall'Ateneo. Il 3 settembre tutte le attività didattiche di ricerca del polifunzionale saranno sospese fino alla fine della prova, fino alle 15, quindi non sarà consentito l'accesso al pubblico e agli studenti, ma solo al personale addetto alla struttura. L'accesso alla sede della prova sarà consentito solo ai candidati, gli accompagnatori non avranno accesso né ai locali interni né alla zona antistante gli spazi adibiti all'identificazione. Le lezioni del nuovo anno accademico partono il 23 settembre e grazie alle aule realizzate e alle nuove dotazioni tecnologiche l'Università riprenderà tutti i corsi in presenza, come anticipato dal Rettore Luca Brunese, garantendo agli studenti l'accesso in sicurezza secondo le modalità indicate dal Ministero e senza necessità di comunicazione preventiva o prenotazione del posto in aula. Agli studenti che non fossero in grado per qualsiasi ragione di raggiungere la sede dei corsi, la didattica sarà garantita in modalità a distanza. E per garantire la ripresa dell'anno scolastico in sicurezza, il Sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, ha già previsto la sanificazione di tutti gli istituti attraverso la ditta ISAN. Il Sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, al fine di garantire la ripresa dell'attività didattica in assoluta sicurezza, ha disposto la sanificazione degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale. La ISAN, azienda isernina specializzata nel settore, ha così provveduto ad effettuare la sanificazione dell'immobile di Rocca Ravindola, che ospita la materna, e dei due edifici di Masseri e la Corte, dove sono allocate la materna, le elementari e le scuole medie. Un pool di esperti ha nebulizzato cloroderivati con rilascio di cloro libero nell'aria e sulle superfici, superiore alle mille parti per milione, unità di misura utilizzata nelle sanificazioni come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Obiettivo finale del trattamento è l'eliminazione di tutti gli agenti patogeni eventualmente presenti nelle aule. La ISAN ha portato al massimo il livello di igiene all'interno delle scuole. Ora il trattamento dovrà essere ripetuto quotidianamente dal personale ATA per continuare ad azzerare gli agenti patogeni. L'utilizzo di mascherine, gel e prodotti sanificanti garantiranno la sicurezza di tutta la popolazione scolastica, oltre ovviamente al distanziamento sociale, che resta la forma più efficace di isolamento del virus. Marciano Ricci, primo cittadino di Montaquila, così come assicurato all'atto dell'insediamento in municipio, continua a dare priorità assoluta ai bambini e ai ragazzi nella convinzione che le nuove generazioni rappresentino il miglior futuro possibile per la sua comunità. Il presidente della provincia di Sernia, Alfredo Ricci, ha ricevuto oggi in visita nella sede di Via Berta il nuovo questore di Sernia, Luciano Soricelli. Il presidente ha illustrato al capo della polizia le peculiarità del territorio, si è parlato di sicurezza di tutti i comuni, dei 52 comuni della provincia, il questore, precisando che il controllo del territorio è non solo il suo obiettivo primario, ha assicurato la sua collaborazione a supportare gli enti per la sicurezza, la prevenzione e il contrasto della criminalità. Da parte di entrambi è stata espressa la volontà condivisa di collaborare reciprocamente e il presidente della provincia ha poi omaggiato il questore con delle pubblicazioni sul territorio isernino. Cinque minorenni di nazionalità afghana, ospiti della comunità alloggio Sant'Anna di Pesco Lanciano, attraverso una finestra della parte posteriore della struttura, si sono calati nel vicolo sottostante e si sono poi allontanati a piedi. Sono scattate subito le ricerche, i carabinieri hanno rintracciato i cinque ragazzi in una strada di campagna nonostante avessero percorso circa 5 chilometri a piedi alla vista dei militari hanno tentato ancora di fuggire ma poi sono stati bloccati. E' stato contattato il responsabile della struttura che ha provveduto a inviare un mezzo per il trasporto dei ragazzi i quali scortati dai carabinieri sono tornati nella loro comunità alloggio. A Esernia, in località Colleizzi, un'automobile di colore scuro ha arrestato la propria marcia e dal lato passeggero è sceso un uomo con un fucile da caccia per esplodere un colpo e ha abbattuto così un nibbio reale che è un animale protetto. L'uomo ha recuperato il rapace e si è dato alla fuga ma dopo lunghe e meticolose ricerche la forestale lo ha individuato. Si tratta di un 21enne isernino con precedenti penali che è stato denunciato dai carabinieri e che rischia dagli 8 mesi di arresto. A poche settimane dall'apertura della stagione venatoria il gruppo carabinieri forestali di Esernia ricorda quanto sia fondamentale tra le loro attività quella del contrasto al bracconaggio venatorio. Il mio impegno sarà totale queste le prime parole di Giuseppe Posillico nuovo preside della storica scuola di Esernia San Giovanni Bosco che è stato intervistato oggi nel suo primo giorno di lavoro dal collega Nicola De Santis. Giuseppe Posillico, 39 anni campano di Sant'Angelo dei Goti proveniente dal CIPIA di Campobasso e il nuovo dirigente scolastico della San Giovanni Bosco prende il posto della preside Mariella Di Sanza andata in pensione il 31 agosto dopo una carriera lunghissima spesa quasi interamente nel prestigioso istituto Isernino. Al suo primo giorno di lavoro Posillico ha voluto ringraziare l'ufficio scolastico regionale per l'incarico ha rivolto un pensiero affettuoso a chi lo ha preceduto ed ha inoltre promesso che la porta della presidenza sarà sempre aperta per tutti coloro che abbiano istanze da presentare. Ci tengo a sottolineare una cosa eredito una scuola di assoluta qualità diretta in maniera impeccabile da chi mi ha preceduto tra l'altro anche mia tutor la dirigente di Sanza. Sono consapevole della complessità dell'istituto e quindi il mio è un incarico dirigenza pro forma insomma sulla carta ma sono ben consapevole che la presenza deve essere costante sul territorio per fronteggiare al meglio tutte quelle che saranno le difficoltà iniziali legate alla riapertura e poi per poter consolidare quanto di buono fatto negli anni dalla mia collega. Per quanto riguarda la giovanità nonostante i miei 39 anni sono al ventesimo anno nell'istituzione scolastica ho fatto, ho svolto ruoli negli istituti comprensivi di vicepresidenza per cui un po' di esperienza c'è. Chiaro è che ci sarà bisogno di avere così come l'articolo 21 del contratto collettivo dice di lavoro all'interno della comunità educante la collaborazione da parte di tutti quindi da parte mia ci sarà ascolto, confronto, quotidiano che sicuramente potrà essere fonte ed elementi di crescita per l'istituzione scolastica. Oltre alla necessità di garantire uno standard didattico eccellente e posillico dovrà mettere in sicurezza tutta la popolazione scolastica. Per garantire un adeguato distanziamento sociale alla San Giovanni Bosco in rapporto al numero degli alunni mancherebbero 12 aule circa. La soluzione sarebbe già stata individuata dalla distanza prima di andare in pensione. Si tratta dell'immobile che ospitava la ragioneria provinciale dello Stato a pochi metri dal polo di San Leucio. Per l'ufficialità bisognerà però attendere il fine settimana. Sicuramente nell'immediato dovremmo affronteggiare la riapertura della scuola quindi dare da subito priorità a quelle che sono tutte le indicazioni che il Ministero ci ha dato per riavviare in sicurezza l'anno scolastico. Di comune accordo con l'ente locale abbiamo da subito avviato tutte quante le comunicazioni necessarie affinché possiamo ripartire in sicurezza il 14 settembre. Dalle prime interlocuzioni l'amministrazione mi ha garantito che hanno trovato la soluzione adatta per poter sistemare gli alunni in ambienti che possono accoglierli rispettando quelle che sono le linee guida del Ministero. Petrella Tifernina si canida ufficialmente a diventare la capitale della cucina molisana grazie a un progetto che è stato avviato e a cui hanno aderito il noto architetto Franco Valente e il Masterchef giovanissimo Valerio Braschi. Una stagione fortunata per il piccolo borgo di Petrella Tifernina che con il progetto Case Vacanze ideato dall'amministrazione comunale è riuscito a catturare l'attenzione della stampa nazionale. Un esperimento, nonostante il Covid e forse anche grazie ad esso, che ha dato ottimi riscontri. Mettere gratuitamente a disposizione dei turisti italiani le case disabitate del paese per trascorrere qualche giorno di vacanza la scoperta della regione più giovane d'Italia ha restituito grande visibilità non soltanto al Comune ma all'intero Molise. I feedback sono stati molto positivi e le migliaia di richieste pervenute all'amministrazione lasciano ben sperare compatibilmente con l'emergenza sanitaria in un prosieguo dell'iniziativa che si concluderà il prossimo 13 settembre. Si nasce dal fatto di aver individuato anche quale fosse la dimora del Duca dell'epoca e dove appunto probabilmente sono stati scritti le prime righe di questo trattato ormai storico sulla cucina del 1600. Quindi su questo stiamo lavorando da tempo l'architetto Valente. Abbiamo ipotizzato anche con il regista morisano Simone D'Angelo di poter lavorare appunto dal punto di vista cinematografico di riportare in immagine quello che noi stiamo ipotizzando e quello che vorremmo realizzare. Fra gli ospiti accolti a Petrella anche il giovane ma affermatissimo chef Valerio Braschi vincitore dell'edizione 2017 di Masterchef l'acclamato programma televisivo dedicato alla cucina. Un'idea vincente ha detto Braschi per rilanciare un territorio che merita di essere scoperto. Qui si respira aria di pace e tornerò volentieri. È un progetto che mi ha interessato subito perché è un ottimo modo per rilanciare appunto il turismo nelle città italiane in questa città e in Italia. Quindi un ottimo modo per convincere le famiglie per quest'anno a non andare in vacanza magari fuori ma a riscoprire le bellezze che abbiamo noi in Italia. Mi è piaciuto molto mi è interessato subito quindi ho aderito appunto all'iniziativa e ho poi la fortuna di trovare il mio pasticcerco con un mio carissimo amico che vive a Bretagna di Fermina che vuole abitare in Bretagna di Fermina quindi è stato bellissimo. Sono stato accolto veramente veramente con le braccia a braccia aperte che è una cosa che mi ha fatto molto molto riflettere sul fatto che posti come questi che sono posti molto che relativamente molto piccoli sono posti veramente utili per ricaricarsi per per veramente venire qua e trovare la pazza e la quiete. Queste serie di coincidenze che ci sono qui a Bretagna di Fermina sono molto interessanti e io per formazione mi innamoro sempre delle delle storie che hanno del legate ai territori legate ai personaggi quindi la 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 legata al carriio mi sembra molto interessante su cui si potrebbe costruire una storia per farla conoscere attraverso un prodotto televisivo al mondo. Non soltanto una promessa quella del giovane chef riminese che ha accettato di sposare un progetto su invito del sindaco Alessandro Amoroso si tratta di un'iniziativa che intende mettere a sistema il già collaudato progetto delle case vacanze la riqualificazione architettonica del borgo e la valorizzazione gastronomica. Sono innamorato di Pedrella di Fermina prima di tutto perché c'è una delle più belle basiliche dell'Italia meridionale dedicata a San Giorgio Marchere ma poi soprattutto perché nel tempo ho scoperto una qualità particolare una qualità storica per il fatto che il più grande cuoco della storia meridionale Antonio Latini ha scritto nel 600 un importantissimo trattato di cucina dedicato al feudatario di Pedrella di Fermina Stefano Carriio Ci sono tutte le condizioni ha detto valente per avviare un'attività che non sia semplicemente di rievocazione storica ma che permetta di dare a Pedrella una sorta di imprimatur nella storia della cucina passata e futura l'idea del sindaco di trasformare il paese in una sorta di capitale della cucina molisana è qualcosa che mi trovo d'accordo perché è in grado di coinvolgere moltissime persone Bene, il momento del meteo scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore Previsioni del tempo per giovedì 3 settembre sul Molise infiltrazioni d'aria fresca alimentano condizioni di generale variabilità mattutina con temporali sparsi al pomeriggio soprattutto nelle aree interne temperature massime in calo venti moderati mare poco mosso queste le temperature nei maggiori centri della regione campo basso minima 15 massima 24 gradi iserne temperature comprese tra i 14 e i 27 gradi termoli minima 25 massima 26 gradi venafro minima 15 massima 26 gradi ed ora una brevissima pausa restate con noi perché tra poco c'è il TG Sportivo con tante notizie in primis l'ingaggio del nuovo allenatore dell'Olimpia agnonese quindi tra poco non cambiate canale ed eccoci ritrovati per la pagina sportiva che apriamo con l'Olimpia agnonese perché ci sono novità inizia a definirsi la squadra granata è stato scelto l'allenatore si tratta di Stefano Senigallesi tecnico che nelle ultime tre stagioni è stato alla guida della San Giustese nello scorso campionato è stato sollevato dall'incarico dopo la prima di ritorno Senigallesi classe 64 nato ad Osimo guiderà il team al Tomolisano che nelle prossime ore dovrebbe definire anche il nome del direttore sportivo poi inizieranno anche ad arrivare i nomi dei calciatori sappiamo che c'era una situazione un po' complicata ad Agnone adesso inizia a definirsi il club la squadra che sarà per questo torneo 2020-2021 ed ora il campo basso il diciottenne Nadeo in avanti per quanto riguarda il capitolo Sforzini ci sarà l'affondo decisivo in questa trattativa nelle prossime ore la caccia al nuovo Zamarchi sembra essere andata a buon fine il campo basso ha messo le mani su un diciottenne di buone speranze Stefano Nadeo classe 2002 è attenzionato da qualche giorno l'altra sera è arrivato nel capoluogo per raggiungere il gruppo che aveva già conosciuto a Palena si tratta di un ala destra di Salerno cresciuto nella scuola Carcio Millennium qualche anno ha stregato le giovanili del Bologna ha speccato il volo verso l'Emilia nel 2016 ad appena 14 anni in rosso-blu ha indossato le maglie dell'Under 15 17 dell'Under 19 in mezzo il prestito alla Cavese questa volta con la Berretti Campana il pedigree sembra incoraggiante ha sempre mostrato ottime doti tecniche ha una certa facilità a saltare l'uomo nell'uno contro uno essendo un brevi lineo come detto nelle caratteristiche ricorda e dovrà sostituire Andrea Zammarchi ora il Cesena che ha deciso di puntare forte su di lui giovedì potrebbe essere il giorno giusto per tesserarlo o meno ma si va verso il sì lo stiamo valutando ha detto il direttore sportivo De Angelis e a Campobasso anche Angelo Capuozzo il terzino sinistro 2001 che pare poter convincere lo staff tecnico può essere definita la telenovela del calciomercato rosso-blu invece quella con Sforzini l'esperto attaccante romano non ancora decide la sua destinazione Campobasso o Messina una cosa è sicura i lupi tramite gli operatori di mercato restano vigili e in attesa di poter concretizzare l'affare rosso-blu la prima divisa del club torna alla tradizione e alle bande strette rosso-blu in rilievo su sfondo rosso le sei torri simbolo della città presenti anche nello stemma del Campobasso Calcio linea elegante e moderna quella scelta per la seconda divisa ufficiale su base bianca protagoniste sono le bande orizzontali rosso-blu nella parte superiore le strisce non sono nette ma la grafica è resa dinamica da un motivo puntinato e sfumato di arancione invece si colora la terza maglia dei lupi una divisa che rappresenta la squadra regione di impatto e grintosa la fascia obliqua e la stella stampate tono su tono così il Molise accompagnerà la squadra capoluogo in tutta Italia si registrano in merito le dichiarazioni del patron Mario Gesuè in tutte le maglie è insito un forte senso di appartenenza il Campobasso deve rappresentare la città e la sua gente per questo abbiamo scelto di portare sulla nostra pelle le sei torri emblema istituzionale storico di questa terra ed ora il Vasso Girardi intensi allenamenti a Fornelli e domenica c'è una nuova amichevole contro il Fasano ripresa ieri a Fornelli la preparazione del Vasso Girardi per quella che sarà la fase che porterà verso l'inizio della Coppa Italia il 20 settembre e del campionato il 27 la formazione di Prosperi in attesa di notizia in settimana sia sulla composizione del girone che del confronto di primo turno di Coppa Italia che potrebbe essere per questioni di prossimità geografica con i cugini dell'Olimpia agnonese di fatto forte dell'esploat contro la formazione di Serie D del gladiator di Santa Maria Capuavetere la squadra del presidente di Lucente proiettata con forza sulla stagione che verrà in attesa tra l'altro di novità sul fronte dell'impianto di gioco del Ditella in questa settimana il gruppo di Prosperi lavorerà con un ritmo da campionato sino a domenica quando a Campitello Matesi affronterà il Fasano altro team di Serie D che ha preso il posto proprio degli altomolisani nella località appellinica ed ora il basket femminile prosegue la fase di preparazione al campionato di Serie A1 della Magnolia a Campobasso nel prossimo servizio sentiamo le impressioni dell'ala pivot Emilia Bove Vincenzo Ciccone la prima di campionato il 4 ottobre a Schio pare ancora una meta lontana in realtà al pari della prima uscita amichevole il 12 settembre a Battipaglia è di fatto un traguardo parziale dietro l'angolo così in casa la molisana Magnolia a Campobasso si lavora solo per arrivare nelle migliori condizioni sia ai test parziali che al torneo cestistico di massima serie in rosa per il proprio centro di tutti gli interessi il gruppo attende unicamente l'ingresso dell'ala statunitense Giulio Voita che ha sostituto il tampone di riscontro ed ora attende unicamente il via libera dello staff medico dopo aver sostenuto anche test fisici per il resto 11 magnolia già lavorano sotto agli ordini di coach Sabatelli e dei suoi assistenti Filipponia e Anzini sul fronte tecnico e con il preparatore con la Giovanni sul versante fisico tra le senatrici del roster dei fiori d'acciaio c'è Emilia Bove che così descrive il momento penso che le cose stiano andando comunque gradualmente bene stiamo lavorando quasi siamo quasi al completo poi proiettandosi sul campionato la lunga casertana fa anche un primo screening sulle avversarie di certo non sarà facile comunque affrontare squadre di alto livello come possa essere vabbè Schio Ragusa ormai sappiamo un po' però noi diciamo che come squadra giovane anche come prima esperienza da uno cercheremo comunque di dare il massimo e di affrontare questo campionato con con entusiasmo un test match che arriva dopo 12 giorni di lavoro contro una squadra quella di Daniele Di Padua che parteciperà al campionato di serie B cinque giorni più tardi quindi il 24 settembre sarà una squadra di serie A a testare il polso ai molisani il Cus Molise infatti scenderà sul parquet del Sandro Abate Avellino una gara questa che rappresenta sicuramente un banco di prova di grande livello per verificare lo stato di preparazione ottobre poi grande calcio a 5 al Palau Unimol di Campobasso col secondo quadrangolare città di Campobasso che è remessa di valore assoluto in cui si confronteranno oltre ai padroni di casa del Cus l'acqua e sapone del tecnico isernino Fausto Scarpitti che è impegnata ai vertici della prossima serie A la Tombesi calcio a 5 avversaria dei molisani in campionato e l'Active Network sempre per quanto riguarda il Futsal ora parliamo della Chaminade Campobasso perché è stato definito anche l'ultimo tassello della Rosa è Antonio Dinunzio centrale Campobassano promosso in prima squadra lo scorso anno dopo la trafila nel settore giovanile mi aspetto un campionato molto positivo ha detto dopo la riconferma anche per la prossima stagione la voglia di tornare sul campo è tanta il mio obiettivo è sicuramente quello di crescere il più possibile in allenamento e di poterlo dimostrare in campo queste le prime parole di Antonio Dinunzio classe 96 e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi invito a rimanere su Teleregione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti